Libro del profeta Abdiah Visione di Abdiah Così parla il Signore, l'Eterno riguardo a Edom. Noi abbiamo ricevuto un messaggio dall'Eterno, e un ambasciatore è stato mandato alle nazioni. Levatevi! Leviamoci contro Edom a combattere. Ecco, io ti rendo piccolo fra le nazioni, tu sei profondamente sprezzato. L'orgoglio del tuo cuore t'ha ingannato, o tu che abiti fra le spaccature delle rocce, che son l'alta tua dimora, tu che dici in cuor tuo, chi mi trarrà giù a terra? Quand'anque tu facessi il tuo nido in alto come l'aquila, quand'anche tu lo ponessi fra le stelle, io ti trarrò giù di là, dice l'Eterno. Se dei ladri o dei briganti venissero a te di notte, come saresti ruinato? Non ruberebbero essi quanto bastasse loro? Se venissero da te dei vendemmiatori, non lascerebbero qualcosa da racimolare? Oh, com'è stato frugato Esaù! Come sono stati cercati i suoi tesori nascosti! Tutti i tuoi alleati t'ha menato alla frontiera. Quelli che erano in pace con te t'hanno ingannato, hanno prevalso contro di te, quelli che mangiano il tuo pane tendono un'insidia sotto i tuoi piedi, e tu non ne hai discernimento. In quel giorno, dice l'Eterno, io farò sparire da Edom i Savi e dal monte di Esaù il discernimento, e i tuoi prodi, o Teman, saranno costernati finché l'ultimo uomo sia sterminato dal monte di Esaù nel massacro. A cagione della violenza fatta al tuo fratello Giacobbe, tu sarai coperto d'onte e sarai sterminato per sempre. Il giorno che tu gli stavi a fronte, il giorno che degli stranieri menavano in cattività il suo esercito, e degli estrani entravano per le sue porte e gettavano le sorte su Gerusalemme, anche tu eri come uno di loro. Ah, non ti pasce lo sguardo del giorno del tuo fratello, del giorno della tua sventura! Non gioire dei figlioli di Giuda il giorno della loro rovina, e non parlare con tanta arroganza nel giorno della distretta! Non entrare per la porta del mio popolo il giorno della sua calamità! Non pascerti lo sguardo, anche tu, della sua afflizione il giorno della sua calamità, e non metter le mani sulle sue sostanze il giorno della sua calamità! Non ti fermare sui bivi, per sterminare i suoi fuggiaschi, e non dare in man del nemico i suoi superstiti nel giorno della distretta! Poiché il giorno dell'eterno è vicino per tutte le nazioni, come hai fatto, così ti sarà fatto, le tue azioni ti ricadranno sul capo, poiché come voi avete bevuto sul mio monte santo, così berranno tutte le nazioni del continuo, berranno, inghiottiranno, e saranno come se non fossero mai state. Ma sul monte di Sion vi saranno degli scampati, ed esso sarà santo, e la casa di Giacobbe riavrà le sue possessioni. La casa di Giacobbe sarà un fuoco, e la casa di Giuseppe una fiamma, e la casa di Esaù come stoppia, che essi incendieranno e divorreranno, e nulla più rimarrà della casa di Esaù, perché l'Eterno ha parlato. Quelli del mezzogiorno possederanno il monte di Esaù, quelli della pianura, il paese dei Filistei, possederanno i campi di Efraim, e i campi di Samaria, e Beniamino possederà Galad. I deportati di questo esercito dei figlioli di Israele, che sono fra i Cananei, fino a Serapta, e i deportati di Gerusalemme, che sono a Sefarad, possederanno le città del mezzogiorno, e dei liberatori saliranno sul monte di Sion, per giudicare il monte di Esaù, e il regno sarà dell'Eterno. Grazie a tutti, grazie a tutti.